salve a tutti amici di storie parallele benvenuti alla sesta puntata del podcast di storia del cristianesimo in compagnia con il professor lupieri approfondiremo in questa puntata le tematiche inerenti alle correnti protocristiane in particolare quelle riconducibili ai discepoli di gesù quindi ascoltate la puntata commentate e fateci sapere buon ascolto buongiorno buongiorno professor lupieri ancora con noi da chicago ebbene sì buonasera lei perché da voi sarà sera siamo 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 più o meno a metà pomeriggio comunque insomma siamo pronti per per questa puntata che sarà diciamo quella coi temi un po più abbiamo detto non dico scottanti ma interessanti da approfondire sempre storicamente e ci facciamo guidare come sempre insomma dalla sua esperta dalla sua esperta guida ecco senza discusi gioco di parole e allora abbiamo parlato fino a questo momento facendo un riassunto di tutto ciò che abbiamo esposto in queste prime puntate abbiamo parlato di un quadro frammentario e ancora da ricostruire approfondire per quanto riguarda i primi gruppi di cristiani abbiamo appunto parlato di questa frammentarietà entrerei col suo consenso nel dettaglio ovvero quali sono i gruppi di cristiani di cui abbiamo qualche notizia e quali invece sono un po meno noti insomma agli onori della della cronaca ecco con piacere incominciamo sì lei dice giustamente che è un bel problema in realtà questi benedetti seguaci di gesù che noi abbiamo chiamato cristiani anche per secoli ma loro mica si chiamavano cristiani no perché il nome non c'era ancora e in realtà è difficile ricostruire i decenni che vanno tra la morte di gesù e il graduale formarsi di gruppi di suoi discepoli fino poi ad arrivare a una chiesa a una chiesa organizzata strutturalmente questo ci vuole un paio di secoli per arrivare proprio a un qualche cosa di che noi che noi concepiamo come chiesa ecco il nostro concetto di chiesa con edifici strutture vescovi magari anche un papa o due insomma una struttura una struttura gerarchicamente organizzata soprattutto poi con anche una teologia che distingue una ortodossia da una eterodossia per questo ci vuole un mucchio di tempo e c'è gente che ha studiato moltissimo questo in italia voglio ricordare il nome di mauro che è un caro amico oltretutto e che è uno dei maggiori studiosi viventi proprio di questo periodo intermedio e in questo benedetto periodo intermedio che cosa troviamo prima di tutto abbiamo un vuoto un vuoto letterario una mancanza di testi di testimonianza immediata perché dagli anni trenta quando gesù fu giustiziato sotto bronzio pilato fino alle prime lettere di paolo i documenti più antichi siamo negli anni cinquanta abbiamo un primo ventennio di vuoto di documentazione diretta non che non ci fossero tradizioni ma non abbiamo i pezzetti i pezzetti archeologici diciamo e poi con lentezza nell'ultima parte del primo secolo abbiamo invece una fioritura di scritti di altre epistole epistole post paoline epistole attribuite ad altri personaggi del del circondario diciamo così di gesù poi scendiamo in particolari dopo abbiamo la produzione dei vangeli sia quelli canonici sia quelli extra canonici che poi si sono persi sono stati distrutti magari ricostruiti citati eccetera eccetera e allora lì siamo sempre nelle sabbie mobili però ogni tanto un isolotto su cui appoggiarci ce l'abbiamo che cosa è successo che cosa è successo in quegli anni in quegli anni bui che diciamo così un po giornalisticamente possiamo ricostruirlo da da quello che vediamo dopo quello che vediamo dopo è che esistono dei gruppi di seguaci di gesù sui quali abbiamo reso conti in mediati dalle lettere di paolo e poi dalle altre epistole che però in genere arrivano decenni dopo le pistole di pietro giacomo giuda quelle di giovanni le deutero paoline cioè le lettere che non ha scritto lui ma che sono state scritte da un nome suo da un discepolo chi lo sa e e abbiamo la ricostruzione la grande ricostruzione degli atti degli apostoli quelli gli atti canonici poi abbiamo atti apocrifi di questo di quest'altro apostolo eccetera però dovrebbero arrivare un pochino dopo anche cronologicamente questo non vuol dire che non conservino qualche tradizione anche loro che è degna di essere rivista anche se sembrano a una prima lettura molto romanzati mentre mentre il racconto di luca è un racconto che si pone di luca racconto degli atti diciamo perché abbiamo già detto l'altro giorno che non sembra essere la stessa persona che ha scritto il vangelo gli atti ma comunque il racconto degli atti un racconto organico che nella mentalità del primo secolo e di un credente del primo secolo che quindi accetta accetta la presenza di dio dello spirito di realtà demoniache e angeliche allora è però un racconto in qualche modo con i piedi per terra non abbiamo gente che vola a mezz'aria non abbiamo non abbiamo cose sconclusionate o affascinanti non abbiamo eccessi di miracoli non abbiamo centinaia di morti non abbiamo come nei racconti non so dell'infanzia di gesù bambino che che litiga con giuda da bambino fanno gli angiolè lui fa lui fa gli uccellini di fango e poi questi volano via e mentre giuda cerca di di distruggere tutte queste cose oppure quando quando è in un posto crollano le statue degli dei muoiono centinaia di pagani sono tutte queste storie no quelle non le abbiamo per fortuna negli atti negli atti degli apostoli tuttavia negli atti degli apostoli abbiamo un piano che vorrei dire ecclesiologico anche perché luca a luca l'autore a un'idea di come dovrebbe essere la chiesa dei seguaci di gesù che lui sa si chiamano cristiani perché lui ce lo dice che a metà del secolo i seguaci di gesù quelli che gli aderenti alla via di salvezza nel nome di gesù cristo furono chiamati cristiani appunto di questo abbiamo abbiamo già parlato quindi con lui possiamo parlare di cristiani di comunità cristiane ma quanto la sua ricostruzione è una ricostruzione idealizzata questa idea di questi che stavano tutto nella primativa comunità di gerusalemme che un po un modello ideale di come dovrebbe essere tutto l'insieme del mondo dei seguaci di gesù questi che stanno che stanno nel tempio e pregano giorno e notte tutte queste cose è una costruzione idealizzata e soprattutto direi questo la mia impressione almeno è che luca cerca di mettere insieme le varie anime di questa realtà complessa costituita dai molti seguaci di gesù e ha alcuni scopi uno direi che sia il riconoscere l'autorità pragmatica diciamo così di pietro e della sua linea e l'altro scopo è quello di far accettare paolo far accettare paolo a parti elementi gruppi cristiani che invece erano supposizioni diverse che fra tutte queste cose le lettere di qua di là è quello che sappiamo poi dopo quello dei primi testimoni anche qui papia di gerapoli questo misterioso scrittore che la cui opera è persa e abbiamo solo dei frammenti no anche qui le cose che ci servirebbero di più non ci sono comunque abbiamo dei pezzi di questo possiamo cucire insieme che cosa possiamo immaginare e che ci sia almeno possiamo cercare di capire quali gruppi c'era un gruppo di discepoli deve essere esistito quanto coerente coeso e tutto un altro discorso perché in questo gruppo di discepoli ci sono almeno due poli diciamo così uno è quello di pietro e l'altro è quello di giovanni giovanni figlio di zebedeo eccetera giacomo l'altro l'altro giacomo suo fratello e questi sembrano legati necessariamente di di origine diversa la funzione petrina sembra di essere quello della soluzione di compromesso e lo si vede da varie cose lo si vede secondo me a parte il racconto degli atti lo si vede dal finale di giovanni l'ultimo capitolo di giovanni che sembra veramente aggiunto nell'ultima redazione del quarto vangelo è passato attraverso alcune redazioni qui si è più o meno tutti d'accordo che sia stato riscritto due o tre volte sto vangelo e nell'ultima quando gesù appare in galilea sul lago e recupera e recupera i discepoli e allora dice a questo di seguirlo ma c'è anche giovanni allora c'è una specie di confronto tra pietro e giovanni e la cosa che ne viene fuori mi sembra di capire è che c'è una specie di accordo pratico tra la linea petrina e la linea giovanea cioè anche il gruppo giovaneo di cui il vangelo di giovanni e l'espressione riconosce una autorità di fatto di pietro anche anche se pietro è passato attraverso la grossa crisi del tradimento ma poi c'è il triplice dice tu mi ami pietro dice allora pasci le mie pecore quindi c'è il risorto che per tre volte pietro nega gesù per tre volte riafferma il suo amore per il risorto e l'altro dice allora pasci le mie pecore quindi c'è un'autorità pastorale il caso di dirlo no riconosciuta in pietro e tuttavia giovanni conserva una autorità morale altissima giovanni è quello che quando entrambi corrono presso la tomba vuota del salvatore arriva prima si ferma pietro entra pietro non sa bene che cosa pensare poi anche giovanni entra e giovanni crede quindi c'è questo e poi alla fine quando dice anche giovanni dice ma anche giovanni ci segue dice pietro sì va bene così perché se lui dovesse restare finché io ritorno no poi c'è tutta questa discussione allora si sparge la voce che non sarebbe mai morto tutte tutte queste storie così invece dice no no guardate che e quindi forse è già morto giovanni a quel punto quando scrivono quando rimetto insieme questo non lo so ma comunque la figura di giovanni conserva una sua autorità morale quindi c'è una specie diciamo così di compromesso si riconosce l'autorità di fatto di pietro come leader e però rimane un'autorità morale di giovanni perché il problema deve essere stato questo chi comanda chi comanda fra tutti questi gruppi gruppetti però vediamo che ce n'erano evidentemente anche altri e l'idea deve essere stata bene comanda colui al quale il salvatore ha detto di comandare come come quando è morto alessandro magno no che che ha dato l'anello a perdica eccetera poi questi si sono scannati i diadocchi di qua di l'anno fatto tre quattro imperi tutte e normale voglio dire gesù non è morto nel suo letto di morte naturale vecchio tranquillo preparandosi la successione gesù è stato ammazzato giustiziato dall'autorità civile del momento e quindi questi che fanno allora dovrebbe esserci stata l'idea che gesù da vivo ha riconosciuto l'autorità di qualcuno ma questo non funziona e non è stato accettato allora l'autorità viene da un contatto con il risorto e gesù risorto che dice fai questo tu questo quest'altro questo è particolarmente importante perché ci salta fuori diciamo il terzo incomodo l'outsider l'outsider che è paolo il quale paolo ha un enorme problema ha tutta una serie di problemi prima di tutto lui era uno che per la propria osservanza lo dice lui stesso si presenta come un persecutore dei primi seguaci di gesù e stando agli atti addirittura era molto uno arrabbiato contro i seguaci di gesù in quanto così eretici non lo so quanto avevano abbandonato la via dei farisei quale sia stata questa persecuzione lasciamo perdere però un certo punto un qualcosa di sconvolgente accade nella sua vita e lui impropriamente diciamo si converte per noi che lui si sa che non è che abbia smesso di essere ebreo ma lui si convince che per essere ebreo veramente devi accettare la dimensione straordinaria di gesù diciamo così devi devi accettare che era lui l'unto a modo suo in modo diverso ne parlavamo l'altro giorno non è di vari messianismi accettare un messianismo in cui la vittoria avviene attraverso la croce attraverso la sofferenza e questo diventa un caposaldo un caposaldo della teologia della teologia paolina e questo non diciamo conversione ma questa trasformazione nel suo modo nel suo modo di pensare legata alla alla sua personalità però lo rende un leader però su che basi e allora lui dice che il risorto è apparso anche da lui e lui ci tiene a dire che era il risorto e anche di questo abbiamo già parlato non era una visione qualsiasi un'allucinazione eccetera eccetera era proprio il risorto perché questo lo mette sullo stesso piano degli altri cioè anche lui diventa un apostolo anche lui è mandato dal cristo risorto a fare qualcosa a una missione e però lui arriva da fuori e si presenta lì e si presenta lì agli altri dice grazie e tu chi sei no allora tu sei uno che ci ha fatto del male adesso allora diventa un esempio così di trasformazione eccetera eccetera ma e in qualche modo paolo deve farsi accettare e allora si crea cioè c'era già una tradizione no che i discepoli avevano problemi a capire anche Gesù vivo e lo hanno capito solo una volta che fosse risorto questo secondo me viene sottolineato ancora di più e riuscirei così a spiegare perché nel in poi tutto il nuovo testamento in particolare in marco perché sti discepoli non capiscono non capiscono non capiscono perché ciò che conta non è per degli esseri umani cioè conta sì ma gli esseri umani non riescono a capire Gesù da vivo hanno bisogno che lui muoia e risorga per essere illuminati e questo evangelo di luca lo spiega anche bene quando ai discepoli di emmaus il risorto spiega le scritture e poi dappertutto c'è questa frase allora ricordarono quello che lui aveva detto ma lo ricordano quando quando sono in rapporto con il risorto quindi il contatto con il risorto è quello che spiega ciò che è accaduto quando gesù era vivo e quanti contatti ci sono stati con sto risorto e quanto tempo è andato avanti anche nel vangelo di luca che quello che poi parla dell'ascensione no la storia dell'ascensione è in luca e negli atti negli altri vangeli non c'è allora la storia dell'ascensione ma quanto tempo è stato prima di ascendere dopo la pentecoste eccetera e o prima della pentecoste perché poi ci sono delle tradizioni che tendono a espandere la permanenza del risorto con i discepoli perché perché così può spiegare più cose arriviamo alla presenza di un paio d'anni in in testi in testi apocrifi mentre l'evangelo di luca sembra subito compa appare poi vanno vanno fuori da gerusalemme da parti di bettania sempre strano da bettania poi la nuvola eccetera uomini di gara e poi invece nell'inizio degli atti 40 giorni rimane no anche per riempire lo spazio poi ci sarà la pentecoste dopo 50 giorni quindi la discesa dello spirito riceverete lo spirito io vado ma mando lo spirito e quindi lo spirito rimane con voi matteo è tutta un'altra storia il matteo non sa non dice quanto tempo dopo ma si ritrovano non a gerusalemme nei presi di gerusalemme ma su un monte in galilea e lì gesù dice io sarò con voi io sarò con voi fino alla fine dei tempi fino alla fine del mondo di questo di mondo quindi è una visione noi siamo abituati a mettere tutto insieme a una visione che non è quella dell'ascensione non c'è non c'è proprio l'angelo di marco è truncato giovanni va per il conto suo giovanni finisce anche in galilea anche interessante questo dove appare il risorto nella tradizione lucana e degli atti appare in gerusalemme e punto nella tradizione matteana appare soltanto in galilea quindi l'origine diciamo così della chiesa fra virgolette in galilea giovanni lo lo porta a apparire in gerusalemme alcune volte e poi in galilea quindi le due tradizioni sembrano fusi insieme poi anche sta benedetta galilea che importanza storia gesù era un galileo che importanza storica ha avuto per le primissime generazioni di seguaci di gesù e quindi poi qui arriviamo al quarto al quarto gruppo che quello dei fratelli di giacomo e degli altri che erano galilei come gesù che importanza ha avuto interessante che negli atti degli apostoli quasi non si parli della galilea se non poi a un certo punto salta fuori alla chiesa si era in pace su tutta la terra si diffondeva benissimo di qua di là di là e menziona anche la galilea bom e poi non ne parla più però parla solo di gerusalemme poi dei viaggi di questi che vanno via ma luca vuole focalizzare l'attenzione su gerusalemme e questo è lucano anche se siamo negli atti perché il vangelo di luca incomincia nel tempio con la pressione dell'angelo a zaccaria continua con la centralità del tempio gesù appare in gerusalemme negli atti la comunità sta nel tempio tutti i giorni pregano eccetera è l'ultima volta in cui il tempio è menzionato negli atti degli apostoli e quando paolo in visita gerusalemme e nel tempio e dentro al tempio ha una visione di gesù che gli dice di andare a convertire i gentili i pagani e lo manda quindi è veramente un inviato un apostolo di gesù ma gesù che appare dentro al tempio di gerusalemme e questa è la visione di stampo lucano che una visione irenistica ed è una visione di successione cioè la nuova realtà cristiana e è il vero giudaismo che si inserisce nella tradizione giudaica interessante vedere che per esempio anche anche nella storia nella storia del centurione no e del miracolo sono gli anziani della comunità ebrei che presentano il centurione gesù no e quindi e quindi c'è e questo lo dice solo solo vangelo di luca quindi c'è una funzione diciamo introduttoria e sono sempre supersessionisti tutti no cioè il cristianesimo alla fine sostituisce il giudaismo questo lo pensano tutti i primi quelli di cui abbiamo le le testimonianze ortodosse le testimonianze canoniche però c'è modo e modo con matteo c'è un boom il contrasto no il suo sangue che cadda su di noi sui nostri figli in luca no in luca c'è una continuità questi stanno nel tempio luca gli atti parlano di una conversione in massa di sacerdoti o della quindi dell'elite sacerdotale che entra nel gruppo dei seguaci di gesù anche lì conversione sempre per rigolette cioè questi rimangono ebrei poi sappiamo di grandi masse grandi numeri di farisei questo lo sappiamo anche da paolo che in bufalito con con i farisei seguaci di gesù perché vogliono portare tutta l'osservanza farisaica dentro dentro al alla nuova realtà e li abbiamo poi lo scontro con pietro che invece cede a quelle alle 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 attenzioni diciamo così alle imposizioni dei dei più giudei dei più ebrei all'interno della comunità e con questo allora ho già fatto due accenni all'altra all'altro gruppo che quello che si riconosce piuttosto nei fratelli di gesù in particolare in giacomo ed è questo è molto interessante è molto interessante perché dai racconti evangelici sti fratelli non ci fanno una gran bella figura come modelli di fede ai tempi in cui gesù è vivo infatti nel vangelo di marco e fratelli e la madre lì la la frase si può si può interpretare in due mondi diversi ma pensano l'interpretazione comune che gesù sia fuori disegno e qui e vanno quindi per riprenderselo e lui allora in quel momento fa quel discorso questi allora dicerebbe intorno a se stesso questi sono madre fratelli sorelle eccetera cioè i credenti attraverso lui il nuovo gruppo di discepoli loro sono la vera famiglia gesù in effetti come sperimentatore di una nuova realtà sociologica avrebbe creato un gruppo di aderenti con caratteristiche familiari abbiamo parlato del bacio nelle incontri scorsi vero quindi questa questa nuova realtà che è anche una realtà sociale se è vero che c'erano ste donne che poi tiravano fuori soldi per per mantenere insieme questo gruppo noi non siamo quanti quanti erano questi che giravano con gesù anche qui un problema questo andava in giro quanti erano una dozzina di uomini quante donne li seguivano e a quanto pare alcuni si erano portati dietro la madre la mamma no i figli di zebedeo zebedeo era rimasto a tessere le sue reti a pescare per qualcuno da può guadagnare ma la madre li aveva seguiti se è vero quello che ci dice matteo con tutta la brutta figura che queste ci fanno fai in modo che i miei figli siedano la tua destra la tua sinistra quando diventerai sovrano di qua e di là no quindi anche lei non aveva capito eccetera ma però fa la madre proprio che mira una madre molto mediterranea no che mira a spingere a spingere e a mettere i suoi figli in posizione di potere quello che lei pensa posizione di potere mentre questo poi c'è la fregatura sì sì questi questi finiscono ammazzati come me no questa è la cosa va e allora lui gesù creerebbe una famiglia alternativa e questa famiglia alternativa serve un gruppo anche grosso e gira con quante persone 20 30 ci sono anche bambini donne anziane donne che non c'entrano niente con la famiglia eccetera e questo si sposta quando arriva in un villaggio dove vanno cosa fanno dove dove trovano i soldi per andare avanti hanno sempre una rete di amicizie per cui dormono a casa di qualcuno dormono per la strada hanno delle tende euro qualcosa è un problema è un problema comunque la interrompo una una curiosità se mi se non ricordo male poi mi corregga lei in teoria la prima selezione che fa gesù è di un nucleo di 72 discepoli o sbaglio quindi può come lo prendiamo questo numero riferito proprio al discorso che faceva lei della quantità di gente certo 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 la primissima selezione sarebbe quella dei dodici e questi dodici sarebbero dodici per le dodici tribù eccetera sti altri 70 o 72 a seconda dei manoscritti che saltano fuori in una fase vuol dire nella fase 2 se vogliamo dire dei sinottici cioè non a livello di marco ma saltano fuori dopo e chi lo sa e chi lo sa perché una una prima cosa è giochiamo sui numeri 12 tribù di israele quindi siamo legati a israele ma soprattutto per l'evangelo di luca c'è bisogno di una espansione al di fuori allora su base 7 e non su base 12 perché i popoli le genti erano a seconda dei testi 7 o 70 o 72 allora abbiamo un un apostolo perché mandato che è per per ciascuna delle genti allora questa sarebbe una una cosa profetica era un gesto profetico per poi pensare a una missione universalistica del cristianesimo quindi sarebbe una riflessione poi aggiunta l'avrà fatto gesù e chi lo sa probabilmente si magari a se erano proprio 70 ma se fossero stati anche solo 40 o 50 questi si aggiungono agli altri e gente puoi mandare in giro e qui giustamente la sua domanda diventa spinosa puoi mandare in giro ad annunciare la nuova parola una persona che hai appena incontrato hai appena conosciuto e che appena detto sì 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 io vengo ma ma chi voglio dire allora sta sta allora sta missione dei 70 72 e chi lo sa e chi lo sa potrebbe essere stata ricostruita all'epoca della redazione del dei vangeli proiettando all'indietro un'attività missionaria delle comunità cristiane della della seconda metà del secolo chi lo sa chi lo sa non mi pronuncio non me la sento di pronunciarmi troppo quello che stavo dicendo lì ritorno è che in questo gruppo non ci sono non c'è la mamma di gesù e non ci sono sti fratelli e sorelle perché da da marco sappiamo che aveva un certo numero di fratelli abbiamo il loro nome le sorelle non abbiamo il nome ma almeno due visto che usa il plurale se dicono i suoi fratelli questo è almeno tre e le sorelle senza nome almeno due quindi erano una famiglia ampia ampia e numerosa da questi fra quando gesù muore i fratelli e la madre nonostante il testo di giovanni che porta la madre di gesù addirittura sotto la croce però dalla testimonianza di tutti gli altri questa la famiglia non è presente non è presente al ai riti funerari non non c'è da nessuna parte insomma proprio lì a gestire il corpo di gesù non è gestito dai familiari né dai discepoli no quindi questi sono dati alla romana sono scappati rimangono solo alcune donne e queste donne poi saranno importantissime come anello di congiunzione tra la morte di gesù e i racconti della risurrezione perché e qui la maddalena ci ritorna dentro come dicevamo l'altro giorno sono quelle che scoprono la tomba vuota volessero no ungere il corpo di gesù troverebbero la tomba vuota e quindi sarebbero la primissima testimonianza se non ancora perché trovare solo la tomba vuota non vuol dire che gesù è risorto infatti giustamente astutamente prudentemente il quarto vangelo quando la maddalena torna dice abbiamo trovato la tomba vuota non sappiamo dove abbiano messo il suo corpo perché uno non pensa subito questo è risorto no e se sono fregati il corpo e allora allora sti fratelli dove sono che fanno perché ci poniamo la domanda perché poi dalle lettere di paolo e dagli atti degli apostoli e dalla storia successiva vediamo che il fratello di gesù giacomo è un capo di un gruppo addirittura viene poi tradizionalmente considerato il primo vescovo di gerusalemme cioè il primo allora i vescovi non c'erano ancora come autorità piramidale insomma però il primo episcopo sarebbe il primo episcopo il primo episcopo vuol dire grossomodo controllore probabilmente gli episcopi avevano proprio una funzione anche amministrativa come a cumran c'è un qualche una parola simile me bakher che è quello che appunto il controllore ma anche proprio dei dei soldi della cassa della comunità e questo spiegherebbe il tesoriere diciamo il tesoriere si questo spiegherebbe tanto che poi questo coso c'erano degli episcopi a quanto pare c'erano anche delle episcope almeno di due abbiamo abbiamo anche il nome nei secoli successivi ma comunque c'erano c'era una funzione una funzione di leadership diciamo pratica e anche di onore all'interno all'interno di una comunità che serve quella di gerusalemme come è possibile se questi fino a quando gesù era vivo sempre che pensano che matto oppure anche nel vangelo di giovanni mettono in dubbio la sua la sua mentre la madre di gesù e dalla parte di gesù li ha i fratelli no i fratelli fino all'ultimo dicono ma perché non ti manifesti insomma lo sfida non poco il il gesù il gesù del quarto del quarto vangelo e lì forse si spiega la cosa come un antagonismo come un antagonismo di giovanni e del suo gruppo non solo nei confronti di pietro con cui poi c'è l'accordo ma nei confronti dei fratelli con i quali invece non sembra esserci accordo stando al vangelo di giovanni negli altri invece poi troviamo che giacomo è una persona di un peso notevole allora che cosa è successo è successo probabilmente quello che ci dice che ti dice paolo nella prima i corinzi cioè che il risorto è apparso anche a giacomo perché quando paolo parla delle apparizioni del risorto dove fra parentesi non menziona alcuna donna ma appare a cefa pietro ai dodici a giacomo ai discepoli e poi a un gruppo di 500 fratelli tutti insieme saranno state anche delle sorelle insomma fratelli e sorelle però normalmente appunto non si parla di donne questo è tragicamente interessante perché anche nella storiografia antica in generale parlano gli autori di donne quando queste fanno cose straordinarie o nel bene o nel male cioè o eroine o persone di una perfidia incredibile e allora parlano anche di donne altrimenti gli eroi sono uomini personaggi sono uomini sempre sempre solo uomini e quindi c'è una congiura del silenzio sulle donne nella storiografia e questa rimane nella storiografia anche nella storiografia nostra una storiografia dei cristiani primitivi in quella che abbiamo poi lentamente lentamente si sviluppa invece almeno nella storiografia canonica diciamo così canonica e ortodossa perché poi l'altro giorno parlavamo dell'importanza della maddalena nelle tradizioni gnostiche o gnosticheggianti e poi avremo nel mondo nel mondo ormai cristiano con il crescere di importanza della figura femminile di Maria allora avremo anche una centrale di Maria che comunque come donna è eccezionale infatti alcune colleghe e colleghe esegete femministe non è che vedano in questo una grande esaltazione della femminilità perché dicono non è che soprattutto accettando la la virginità perpetua di Maria e la sua concezione immacolata si è una donna ma è una donna molto sui generis cioè non è non è che ogni donna possa allora la questione può identificarsi con il modello eccetera eccetera ma questo è tutto è tutto un altro discorso il fatto è che le donne non vengono non vengono menzionate ma il silenzio da parte del quarto vangelo sui fratelli è un silenzio secondo me molto eloquente io ritengo che mentre appunto con il gruppo paolino ci sia stato un accordo questo accordo con il gruppo di giacomo gruppo giacobita non non sia avvenuto chi è questo giacomo oltre essere il fratello il fratello di gesù questo giacomo sembrerebbe essere un almeno la tradizione poi ce lo presenta come un ebreo osservante ultra osservante addirittura che sarebbe stato poi sempre vestito di bianco di lino come i sacerdoti il quale secondo la tradizione sarebbe stato ammazzato abbastonate abbastonate che era il modo in cui venivano giustiziati i sacerdoti i sacerdoti non venivano lapidati quando erano colpevoli di di pena capitale ma venivano uccisi abbastonate allora questa cosa fatto pensare ma allora possibile che fosse di famiglia sacerdotale allora qui è saltato e qui c'è un incrocio simone muniche convinto che gesù e tutta la sua famiglia fosse veramente di famiglia sacerdotale il che mostrerebbe le si giustificherebbe le simpatie di gesù per il tempio cioè non soltanto giovanni battista non soltanto sua madre secondo luca perché se è cugina di elisabetta elisabetta e di famiglia sacerdotale allora anche maria e le vita e non è e non è quindi della tribù di giuda mentre giuseppe sarebbe dalla tribù di giuda così che gesù sia il messia davidico no perché imparentato in quanto tribù di giuda imparentato con quel ramo e rimane apro e chiudo una parentesi qualcosa di cui non non entro ma perché una giovane di famiglia sacerdotale era promessa sposa a un giovane di famiglia non sacerdotale un un giovane quindi di della di un'altra tribù in un'altra tribù non non le non di tradizione levitica comunque è possibile è fattibile è fattibilissimo però anche questa è una cosa su cui rifletta a parte tutto questo della sacerdotalità eccetera dalle litigate che emergono in paolo lettera ai galati e e dai discorsi molto irenisti o irenistici che troviamo negli atti dovevano esserci discussioni molto radicali molto decise che vedevano giacomo come un elemento fortemente legato alla tradizione giudaica paolo come elemento che spingeva per una rottura una ellenizzazione non una rottura ma uno sviluppo una ellenizzazione dell'intero gruppo per accettare nel gruppo i non ebrei e con pietro che lì pietro nella pistola nella versione paolina del racconto dello scontro con pietro pietro tentenna e un po si sposta verso giacomo quando arrivano gli emissari di giacomo da gerusalemme mentre e paolo lo prende in castagna dice no prima tu mangiavi con i pagani adesso cos'è che fai vai a mangiare solo con i circoncisi e per fortuna voglio dire che paolo perché altrimenti se la linea paolina non avesse vinto il cristianesimo chiamiamolo cristianesimo sarebbe rimasto un gruppo di ebrei e non si sarebbe perché alla fin fine se ci sono mense separate questi impongono l'osservanza quindi dei cibi della caschut se impongono la circoncisione questo fu il grosso problema cosiddetto concilio di gerusalemme questo incontro avvenuto chissà quando anni 50 in gerusalemme no c'è chi mi arriva lì anche dire in che in che giorno della settimana non fa io non lo so ma insomma diciamo negli anni 50 questi si sono i vari leader si sono trovati si saranno litigati ben bene luca presenta ricostruisce i discorsi dell'uno dell'altro mentre di paolo e di barnaba che l'ha accompagnato dice solo che illustrarono dalla grazia del signore tutte le le conversioni che c'erano state ma non dice esplicitamente però paolo vince paolo vince perché riesce a ottenere un numero di osservanze tradizionali ridotto per quelli che si convertono e qui diciamo convertiti dal paganesimo dal mondo ellenizzato greco romano in particolare riesce a ottenere la non circoncisione poi ci sono altre cose sì evitare gli animali soffocati quindi mangiamo gli animali dissanguati evitare il sangue quindi non rapporti con donne mesquate queste cose però presto queste cose saranno scopate sotto il tappeto nelle comunità paoline e l'importante è che crollata l'imposizione della circoncisione perché quello è sempre stato un portacolo alla alla conversione soprattutto in un mondo come quello greco romano in cui la circoncisione è una oscenità mentre anche nei tempi c'erano stato e anche degli dei statui maschili e femminili in uno stato di nudità totale questo non era considerato la nudità totale non era considerato un qualche cosa di ripugnante o di o di osceno secondo nostro concetto mentre un membro circonciso è considerato è considerato osceno quindi al di là della del dolore fisico che comporta che comporta una circoncisione fatta in età adulta per motivi religiosi come per motivi religiosi si fa di tutto insomma ma comunque una al di là del dolore e e del rischio moderato insomma di infezioni eccetera di emorragie se ci sono dei problemi il problema è che poi che fa e noi sappiamo anche dal libro dei maccabei per esempio che quando israele fu ellenizzato e si fecero e si fecero dei giochi ginnici pubblici c'era un luogo dove andare a fare ginnastica come tutti i giochi ginnici la ginnastica eccetera si faceva in stato di nudità di uomini solo uomini alle donne anche vietato di andare allo stadio eccetera di queste volte si trasvestivano da uomini per andare eccetera questi che erano circoncisi erano oggetto di ludibrio da parte degli altri e infatti il libro dei maccabei racconta di queste cose atroci di questi che si facevano operare chirurgicamente per riestendere scusate la pelle del prepuzio è mancante però e la cosa poi ancora più atroce che quando poi vinsero i maccabei e tornarono al potere questi per essere considerati ebrei si fecero ricirconcidere e comunque almeno non dovevano più andare in pubblico nello stadio a mostrarsi allora c'era era un problema culturale in primis la circoncisione e evitarlo è stato evitare la circoncisione è stato un uno strumento notevole per la propaganda del dei primi gruppi di seguaci di Gesù non è che ci fossero ebrei non circoncisi è perché ce n'erano per esempio se in una famiglia erano già morti dei bambini dissanguati o per infezione eccetera non i nuovi arrivati non venivano circoncisi venivano soltanto immersi soprattutto nel primo secolo quando anche si diffuse il battesimo l'immersione del proselita o proselito perché prima venivano immerse soltanto le donne e questo poi si estende anche agli uomini come segno diciamo di completa adesione di completa integrazione nel mondo nel mondo ebraico probabilmente anche lì come un togliere le tracce della tracce fisiche della impurità spirituale precedente dovuta alla propria vita nel mondo nel mondo pagano comunque sia anche giacomo cede su questo nel nel consesso concilio convegno nell'incontro che sembra aver avuto luogo a gerusalemme anche giacomo cede su questo almeno nel racconto degli atti per i convertiti dal paganesi gli ebrei rimangono ebrei continuano a circoncidere e continuano con le loro leggi di osservanza anche se sono seguaci di gesù il problema si pone in una comunità mista che facciamo perché se io sono veramente osservante come faccio a mangiare alla stessa tavola persone che mangiano un cibo contaminato o persone che non rispettano le mie norme di kashrut il problema il problema ritroviamo al racconto sempre lucano allora di gesù a tavola dal fariseo quando arriva la peccatrice che gli uge i piedi lo contamina se queste peccatrice e allora gli contaminata contamola il cibo del fariseo fariseo ha ragione dice ma che cavolo di profeta è questo che si fa contaminare e mi contamina pure il cibo io che faccio prendo il cibo dalla ciotola da cui lui ha messo la mano una volta che è stato toccato da lei e quindi è diventato contaminato e contaminante il problema il problema è grosso un compromesso deve esserci stato almeno fino a un certo punto però sono rimasti gruppi di ebrei credenti seguaci di gesù i quali all'inizio saranno avranno avranno avuto un peso forte nel nel rapporto fra i vari gruppi non crediamo più ormai nell'esistenza di una comunità ma di vari gruppi diversi in territorio palestinese questi decisamente ebrei saranno stati molto importanti all'inizio ma poi tra una batosta e la distruzione del tempio in gerusalemme cessa si interrompe l'esistenza di un di un nucleo fisico di riferimento giacomo è ammazzato da decenni questi vengono sempre più isolati e marginalizzati al punto e poi probabilmente li riconosciamo nel gruppo ormai giudaizzante degli e bioniti che questi benedetti e bioniti di cui di cui abbiamo solo abbiamo solo le le reazioni dei padri della chiesa che parlano contro questi e bioniti con qualcuno che ci fa anche anche dell'ironia perché sti e bioniti prima che poi da un termine aramaico insomma che suona più o meno e bion che vorrebbe e centrerebbe con i poveri cioè questi si sarebbero chiamati i poveri i poverelli ma come i poverelli francescani poveri come scelta che così pensa e pensa anche alla alla al vangelo dell'infanzia in luca no dio che capovolge le sorti allora i ricchi collano i poveri e l'esaltazione dei poveri no l'esaltazione dell'essere dell'essere proprio miserello poverello ecco insomma questo che è un po' una costante anche all'interno questione su questi poveri vengono prima di tutti dicono no 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 e che hanno un fondatore un certo e bion che era un eretico chiaramente vabbè allora allora si chiamano e bioniti per quello ma è quello e invece c'è chi li prende in giro sì sono poveri perché hanno una visione teologica veramente povera cioè non hanno capito non hanno capito la divinità di gesù aia allora questo significherebbe se sti benedetti e bioniti che avevano anche i loro testi i loro vangeli giudeo cristiani di cui abbiamo un frammentino qui un frammentino la in uno di questi gesù avrebbe detto che sua madre lo spirito lo aveva preso per i capelli e trasportato tutte queste cose ma la madre è spirito no perché lo spirito nelle lingue semitiche è femminile allora la madre lo spirito come madre lo avrebbe guidato in qualche modo e coserelle del genere fra una frasetta che una frasetta la se questi sono in rapporto con giacomo e con i fratelli e se questi stando sempre ai padri della chiesa per esempio ti dicono che non credono nella virginità di maria e sì perché se tu hai come leader uno che si definisce fratello di gesù questo fratello vuole essere fratello al cento per cento e non fratellastro nemmeno figlio solo della madre no e allora si capisce che in questi gruppi questi gruppi non avessero una mariologia o avessero una mariologia diversa da quella che poi lentamente cresce fino a esplodere siamo poi nel quinto secolo nel 411 a efeso quando maria diventa ufficialmente la madre di dio che è un concetto che è un concetto ostico insomma infatti alcuni non lo trangugiarono madre di gesù madre di cristo non tutte le discussioni con quelli che poi diventeranno eretici insomma ma nel quinto secolo esplodono tutte le polemiche insomma ci abbiamo messo dei secoli per arrivare a una a una ortodossia costituita prima bisognava spiegare la natura di gesù la natura del rapporto intra trinitaria no quindi l'equivalenza e la diversità fra le persone prima di tutto definire persone e cosa lo padre il figlio lo spirito sa che cosa noi adesso siamo abituati così ma o bisogna bisogna spiegarla la cosa e poi ti ci arriva anche la questione di maria diciamo che la io qui la sparo un poco no ma la la teologia cristiana è fondata su tutta una una serie di diossimori la vittoria attraverso la sconfitta no e la la debolezza che è forza e tutta una serie di cose all'apparenza dure da concepire con una razionalità normale diciamo così umana che un dio si incarni fino a noi ci siamo abituati ma non sono cose che un accetta così a vabbè sì normale tranquilli no sono cose qui uno uno riflette e e la cui spiegazione non è poi così semplice voglio dire anche teologicamente ma è tutto l'insieme l'accettazione stessa dell'esistenza di dio nel passato era la situazione di default se vogliamo e e chi il non credente doveva provare che dio non c'è oggi siamo in una situazione diversa la situazione di default e agnostica forse vero quando va bene diceva si è dall'ottocento la famosa discussione si dio come ipotesi è inutile no non serve come ipotesi la discussione alla corte di napoleone fino fino alla produzione atea contemporanea che dice che l'ipotesi di dio crea molti di un'esistenza di dio di una realtà di dio che ha molti più problemi che una non ipotesi cioè che un non avere dio perché nella nostra cosmologia con questo mondo di cos'è 12,8 miliardi di anni che in qual comunque la serie giri non si può mettere in in collegare con il racconto biblico il racconto biblico è interpretato in un modo completamente diverso è inutile andare a cercare la bibbia per per spiegare le cose insomma galileo ci provava ancora io io adoro galileo appassionato galileo galileo non in studioso eccetera di quello che ha visto i monti sulla luna di quella ma galileo come persona che riflette sulla bibbia perché cerca di salvare caprecavoli finché può in quella sua lettera cristina la granduchessa di toscana è notevolissima i suoi principi sono quelli che poi sono accettati oggi come oggi dal esempio dall'esegesi cattolica voglio dire dall'esegesi anche confessionale accetta quei principi che furono condannati a suo tempo perché troppo troppo rischiosi del resto la chiesa come rappresentata da bellarmino era impegolatissima nelle litigate con i protestanti siamo agli inizi del seicento no e quindi e quindi avevano 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 diavoli fin sotto i capelli insomma quando ti salta fuori anche sto galileo adesso è la miseria mi dimostra che le sfere non ci sono più e che noi non siamo più il centro dell'universo come si fa qui crolla tutto no allora andiamo ai ripari non ho per carità vabbè comunque parte questo è chiusa è chiusa la parentesi tutta la fede è impostata sul credere in cose che non sono razionalmente dimostrabili qui mi fa piacere ricordo il amico amico teologo e biblista piero stefani il quale con coraggio una volta detto parlando di tommaso no e delle vie per arrivare a riconoscere l'esistenza di io sono via che non portano da nessuna parte e lo dice chiarissimamente perché se noi usciamo da una struttura aristotelica filosofica non portano da nessuna parte mi dispiace ma ma l'amico piero ha ragione proprio da nessuna parte e si arriva allora a quella frase che è stata mal interpretata il creo qui a credo qui a absurdo che è stata spiegata credo poiché assurdo no visto che non è razionalmente spiegabile assurdo allora io devo fare il salto nella fede e quindi credo ritorniamo al tavolo no se io vedo il tavolo tocco con le mani lo sento gli batto sopra sento anche il rumore cioè lo vedo tutti i miei sensi lo percepisco con tutti i miei sensi allora credo che esista constato che esiste non ho bisogno di fare un atto di fede l'atto di fede viene quando allora nella nella riflessione teologica direi che la riflessione teologica è molto logica e si parte da un presupposto e si scende giù e il presupposto se gesù è figlio di dio allora l'incarnazione deve essere avvenuta in un modo straordinario perché è un evento così straordinario non avviene normalmente no e allora si è incominciato a dire va bene ma è figlio di dio allora biologicamente non ha un padre umano perché il padre siccome la madre c'è non è nato non è nato da un fiore o dalla schiuma del mare c'è una madre allora la madre c'è allora il padre non sarà un padre umano perché è un fenomeno di partenogenesi il prodotto ha lo stesso materiale genetico del produttore o della produttrice quindi sarebbe nato donna se fosse stato un prodotto di partenogenesi allora detto detto in termini brutalmente biologici da dove viene il cromosoma y quindi il miracolo il miracolo operato la creatività la nuova creazione quasi dello spirito santo è straordinaria non soltanto perché non c'è un padre biologico ma perché gesù è uomo figlio di una donna senza un padre biologico allora di passo in passo si è incominciato a immaginare io credo io credo che almeno sia stata comprensibile l'idea di una verginità di maria non per la verginità in sé specialmente in ambiente giudaico la verginità non era tenuta in considerazione cioè sì una ragazzina voi ve ne ho sposate giovanissime spesso addirittura in età prepuberale a volte no prima del menarche allora però era importante proteggere la purità di gesù per questo io credo che sia stato perlomeno anche accettabile in ambiente anche arcaico in ambiente legato alla una a un'attenzione al sangue che è tipicamente giudaica vero evitare che il neonato si contamini anche con il sangue di sua madre e quindi penso suppongo che l'idea di una verginità di maria che credo agli inizi fosse riservata al momento del concettimento di gesù cioè maria rimane vergine ed è scoperta incinta essendo ancora vergine e la sua verginità è rispettata almeno matteo dice che giuseppe non ebbe rapporti finché non nacque fino alla nascita del bambino almeno fino alla nascita del bambino poi dice nulla di quanto segue e allora per proteggere la purità del figlio di dio credo che sia apparso per lo meno accettabile l'idea che maria sia rimasta vergine durante il parto nel secondo secolo ci sono discussioni feroci su questo perché la verginità di maria durante e a quel punto poi aggiungendo un pochino anche dopo il parto così i fratelli di gesù non sono più fratelli suoi diventano figli di un primo matrimonio di giuseppe sono cugini altre spiegazioni eccetera eccetera ma in questo modo però si crea a di si dà adito a riflessioni diverse su gesù perché almeno nel secondo secolo abbiamo chiara la presenza di gruppi che ritengono che gesù non fosse un essere umano in carne ed ossa come tutti ma fosse una specie una quali era una concretizzazione dello spirito ecco una e gli altri dicevano ama è una è un fantasma cioè non non un vero il che e che risolve molti problemi alla crocifissione eccetera eccetera perché allora uno così non soffia e quindi per questi era importante la non fisicità di gesù e quindi per loro una verginità di maria durante il parto andava benissimo tertuliano spara a zero contro quello del tertuliano siamo a fine del secondo secolo e violentemente lui è sempre violento ma è violentemente contrario all'idea della verginità di maria no no gesù nasce nel sangue come tutti noi eccetera eccetera scende giù con particolari ed è allattato da sua madre e tutte cose perché lui lotta contro questi docetisti cioè questi che credono in una apparenza della della fisicità di gesù quindi sta verginità di maria che faceva comodo anche a degli ignostici abbiamo una frase di stampo valentiniano che disse che gesù passò attraverso il corpo di maria come acqua attraverso un tubo cioè non prese nulla dal corpo di sua madre il cristo diciamo perché cristo è come entità spirituale questi credevano ancora che gesù fosse il cristo fin dall'inizio altri pensavano che il cristo fosse disceso in gesù al momento del battesimo e magari uscito poco prima della crocifissione così da evitare che dio patisse sulla croce come altri invece ritenevano che addirittura dio padre non vi sarebbe stata distinzione tra padre il figlio ma la divinità essendo unica sarebbe stata totalmente presente in gesù cristo e quindi anche il padre avrebbe patrito in croce per cui li chiamavano i patri passiani cioè quelli del patimento del padre sulla croce le abbiamo inventate di tutti i colori voglio dire in questi in questi secoli in questi secoli e millenni però io mi faccio l'idea che un'idea di una virginità così di maria si sia sviluppata attraverso il tempo fino ad arrivare a una virginità perpetua quindi per durante tutto il tempo il tempo della sua vita poi allora diciamo che la sacertà e la purità di gesù ha investito la struttura del diciamo brutalmente del suo contenitore cioè della madre creando trasformando anche lei in una sempre più un'entità straordinaria tanto da arrivare all'idea che sia in qualche modo morta ma che il suo corpo quel corpo che aveva ospitato il salvatore non è finito in una tomba non è finito nella putrefazione ma è stato in qualche modo salvato con quella che noi chiamiamo l'assunzione poi di Maria al cielo quindi col corpo con il corpo anche no quindi questo voglio dire lo sviluppo della mariologia e qui ci sono discussioni anche a non finire con i fratelli separati protestanti no che accusano il mondo cattolico di mariolatria su questi su questi particolari ecco questo ma diciamo che la straordinarietà di gesù ha ha influito sulla straordinarietà della madre portandola 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 appunto a una situazione di estrema differenza rispetto agli altri esseri umani e questo mi sembra semplicemente o complessamente se si può dire l'ultimo gradino di sviluppo proprio di una riflessione teologica fondata sul sulla realtà dell'umanamente inconcepibile perché è tutto se vogliamo tutto nel rischio cioè o sia o si accetta o non si accetta e questo permette e questo permette l'esistenza della fede eccoci qua eccoci qua cari amici spero che la puntata sia stata di vostro gradimento vi aspettiamo per l'ultima puntata di questo ciclo di lezioni cercheremo di fare pressing sul professore per averlo nuovamente ai nostri microfoni nell'ultima puntata approfondiremo le tematiche un po spinose del discorso dei familiari di gesù quindi restate con noi ascoltateci e commentateci a presto